In questo momento non c'è il centrodestra, affanno sapere il centrodestra. Non do lezioni a Forza Italia, aspetto che vengano fuori dal dibattito interno e io intanto continuo a costruire un progetto alternativo a Renzi fondato sull'abolizione della legge Fornero, sull'abolizione degli studi di settore, sull'uscita dall'euro, sulla ridiscussione dell'Europa, sul blocco delle migrazioni clandestine. Quindi vado avanti con le idee. Quindi, confronto e dialogo con il PD è impossibile a questo momento? Su alcuni temi, se il PD portasse in Parlamento, finalmente, invece che la buffata sulla RAI, la cancellazione della legge Fornero, gli do una mano io di notte, ci lavoro di notte. Se invece vogliono occuparsi di legge elettorale, di RAI e di banche popolari da consegnare a qualche amico degli amici, no. L'Europa è ancora il nemico numero uno? L'Europa per l'Italia è una sciagura, è una gabbia, ci costa tanto, ci rende poco e ha delle normative che stanno massacrando la nostra agricoltura, il nostro commercio e la nostra pesca. Sabato pomeriggio saremo in piazza del Popolo Roma con tanta gente che sogna un'Europa diversa, con più diritti e meno banche.